E allora guardiamo all'esempio di Padre Pio, alla sua fede, alla sua speranza, alla sua carità e chiediamo a Padre Pio di poterlo imitare. Non ci limitiamo solo a chiedere quella grazia che tutti chiediamo, ovviamente anch'io. Vado da Padre Pio a chiedere la guarigione di una persona cara, di un parente, di una persona che si affida alle nostre preghiere. Certamente lo facciamo tutti, ma oltre quello chiediamo a Padre Pio di poterlo imitare, di mettere in pratica i suoi esempi e i suoi insegnamenti. Voi che venite qui, conoscete Padre Pio veramente? Avete letto le sue lettere? Avete letto i suoi consigli spirituali, che sono validi anche per noi? Allora sì che possiamo essere figli spirituali di Padre Pio. Giungono tante lettere anche dall'estero, dicendoci che cosa dobbiamo fare per diventare figli spirituali di Padre Pio? Pensano a un formulario da riempire, da compilare, perché rimanga, ecco, qui che Tizio, Caio e Sempronio sono figli spirituali di Padre Pio. Quello è secondario. Dobbiamo sforzarci di imitare Padre Pio nelle sue virtù, nella sua fede, nella sua speranza, nella sua carità, e di mettere in pratica i suoi insegnamenti, la preghiera, la vita cristiana integra, coerente con la nostra fede. Allora sì, saremo figli spirituali di Padre Pio e come lui ci diceva, non gli faremo fare brutta figura, perché lui ci accettava, ma ci diceva, però non mi far fare brutte figure, cioè comportati bene, si buon cristiano. Chiediamo questa grazia oggi a Padre Pio, perché questa visita a questi luoghi in cui lui è vissuto e ha operato per tanti anni possa essere un momento di grazia particolare per la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.